Salve, salve, prego si accomodi, benvenuta nella nostra spa, nel nostro centro benessere ASMR, benessere e relax, lei si chiama? È la signora? Alice, perfetto, piacere, io sono serena, ma per tutti qui nel centro sono sereni di ASMR, sa cos'è l'ASMR? No? Beh, glielo spiego subito, a presente quando lei si rilassa talmente tanto che sente dei previdi lungo il collo, lungo la schiena, lungo anche tutto il cuoio cappelluto, dei previdi, esatto, si, li ha mai provati? Magari quando guarda un film, quando sente una voce sussurrata, o quando legge un libro, o quando gli viene letto un libro, o quando magari sente una voce bassa come la mia sussurrata, esatto, o quando beve una tisana, si sente rilassata, o magari anche guardando video ASMR, sa cosa sono? Sono video prettamente di rilassamento, di relax, esatto, e sono video che servono per far rilassare una persona, appunto chi guarda questi video, li guarda per rilassarsi, certo, e per dimenticare per un momento tutti i problemi che ci sono, magari nella vita di ognuno ci sono dei problemi, no? E quindi uno guarda i video ASMR per rilassarsi, e per estragnarsi, diciamo, un po' dal mondo, ecco, questa nostra spa è molto particolare, proprio perché non è una spa normale come le altre, ma è una spa ASMR, cioè, come vi spiegavo prima, una spa rilassante, dedicata a, noi qui facciamo appunto trattamenti dedicati al relax e al benessere della persona, sia mentale che benessere fisico, ma soprattutto psicologico, psicologico, e non vogliamo solo che i nostri clienti, quando entrano, sono stressati, sono stanchi, sono pensierosi, sono magari tristi e quando usciranno di qui, quando escono di qui, ad esempio lei la vedo un po' stanca, oggi, quando uscirà da qui, sarà rilassata e tranquilla, senza pensieri negativi, senza ansia, senza problemi, è pronta per questi trattamenti di benessere, per il suo corpo, per il suo viso, ok? Ok, allora, si sieda pure, si accomodi, posso darle lì tu? Certo, ok Alice, allora io ti tratto come una mia amica, perché appunto, diciamo, lo scopo della ASMR è rilassare, ma anche trattare tutti i nostri clienti, in questa nostra spa, il nostro scopo è rilassare, far stare bene i nostri clienti, trattare bene i nostri clienti, ma soprattutto, trattare voi come foste i nostri amici, quindi, sì, volervi bene ovviamente, trattarvi bene, e farvi stare bene, questo, mi raccomando, vai a cercare i video ASMR, se non li conosci, se ti interessano, vedrai che ti rilasseranno tantissimo, quando sarai stressata, oppure ritorni qui nella mia spa, e ti trattiamo come una regina, ti tratteremo bene, vedrai, già oggi, quando te ne andrai mi farai sapere se sei stata bene, se ti ho trattato bene, oppure no, ok? Perfetto, allora, ci siamo sentite telefonicamente giorni fa, e sì, oggi ci vediamo dal vivo, sei molto bella dal vivo, posso dirtelo? Sì, sono sposata anche io, certo, hai dei figli tu, se posso sapere? Qualche bimbo? Due? Fantastico, un maschio e una femmina? Come si chiamano? Sono curiosa, Alessandro e Gaia, bello, mi piacciono, mandagli un saluto poi quando torni da parte mia, anche se non mi conoscono, ok? Perfetto, allora, ci prenderemo cuore anche delle tue mani oggi, ma soprattutto del tuo bel viso, che vedo completamente stoccato, posso sentire, posso toccarti il viso, ok? Anche fare dei suoni, dei mouth sound con la bocca, può essere rilassante, nell'ASMR, non c'è assolutamente niente di volgare, niente di hot, neanche cose pornografiche, assolutamente no, niente di niente, solo relax, anche gli hand movements, questi movimenti delle mani, per qualcuno può essere rilassante da vedere, massaggio un pochino le mani e le preparo ai trattamenti che dovrò farti, saranno pochi, vedrai, pochi e semplici trattamenti, tanti consigli per te e per curare la tua pelle e il tuo viso, anche quando sarai a casa da sola, quando avrai preso del tempo per te, a parte guardare la famiglia, i figli, la casa, ci va ogni tanto un po' di tempo per noi stessi, ce lo meritiamo? ok, sono pronta? quando hai tempo per te stessa, curati, prenditi cura di te, che è importante prendersi cura di noi stessi, perché noi stessi, è la persona con cui dobbiamo vivere tutta la vita, a parte gli altri, vero? hai ragione, concordo, sì, è proprio così, il nostro interiore, il nostro fisico, il nostro essere interiore, il nostro corpo, è la persona con cui dobbiamo vivere tutta la vita, a parte marito, figli, amici, eccetera, certo, allora io ti dico anche che ho preparato già tutto, sapevo che venivi e sei puntualissima, brava, ottimo, perfetto, 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 anche ripetere le parole può essere rilassante, perfetto, 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 è un lipoloso lucido, alzami la labbra lucida, io volevo dirti che in questa spa, in questo nostro centro benessere, dove io sono la direttrice, sì, esatto, con altri miei colleghi, noi usiamo solo prodotti biologici, al 100%, per i nostri clienti vogliamo il meglio, ok, tu rilassati se vuoi, puoi anche chiudere gli occhi, quando io ti, ti coccolerò la pelle, il viso, ok, se ti rilassi puoi anche proprio lasciarti andare, e chiudere gli occhi, poi dopo se vuoi ti faccio anche una tisana, la vuoi? ok, ne abbiamo tante, poi te le faccio vedere, allora inizio, con un latte detergente, questo qui, lo puoi trovare da Lidl, o lo vendiamo comunque anche noi, tutto rosa e bianco, anche il tapping, può essere, un suono, un trigger, si chiamano così, di suoni, tanti trigger, per rilassare, il tapping, può essere un trigger, rilassante, per molti lo è, a te piace? si, bene, ok, questo è ottimo, è un packaging rosa, ovviamente, si, si svita così, tipo sapore liquido, oppure si può usare direttamente, sulla pelle, ma noi adesso, andiamo, a usarlo, con un dischetto di cotone, un cotto pezzo, latte detergente delicato, contiene, una preziosa, azione idratante, e mantiene inalterato, l'equilibrio naturale, della pelle, tutti ingredienti biologici, qui puoi leggere tutto, ok, perfetto, ed è fantastico, adesso te ne mettiamo un pochino, ma proprio poco, sul cotto pezzo, senti com'è morbido, senti, bellissimo, con i quadretti, guarda che bello, molto morbido, si, molto morbido, ti rimetto giusto un po', ma poco, non ti preoccupare, non voglio esagerare, si, ok, vedi, è bianco come il dischetto, e cola anche un pochino, ok, adesso, si, chiudi gli occhi, e te lo passano, te lo picchietto, tutto sulle guance, sul mento, sulla fronte, è la prima volta, che vieni in questa spa, in una spa ASMR, è vero, immagine, è una cosa particolare, ok, perfetto, lasciamo agire qualche secondo, tu non toccarti il viso, mi raccomando, io, mi sono fatta una maschera, ieri sera, per me che, andassi a dormire, e te le consiglio, quelle, della Lidl, all'aloe vera, è fantastico, la pelle morbidissima, oggi no, mi hai detto, che la maschera, non volevi farla oggi, volevi solo, dei trattamenti, molto facili, che potevi, ricreare a casa, certo, questo, l'antel detergente, te lo consiglio, tesoro, ok, molto valido, con, flower, lotus flower, e silk, fiore di loto, lotus flower, lotus flower, ok, qui siamo a posto, e poi, ti voglio mettere, un po' di scrub, sul viso, ovviamente, questo va bene, anche per il corpo, questo, lo puoi trovare, albenni market, l'altro allineo, tutti i discount, low cost, ed è della venita, certificato, Icea, cosmesi naturale, scrub, viso e corpo, con ginseng, gallantolina, e glicerina, purificante, regenerante, tappi, sempre lo faccio, se ti piace, lo faccio, leggero, leggero, perfetto, anche i colori, bianco, verde, azzurro, come l'acqua, bellissimo, vero, molto rilassanti, questi colori, ok, fammi sentire un po', se si è assorbito, il latte detergente, sì, direi di sì, mettiamo un pochino, di scrub, questo poi, lo passiamo, con un po' d'acqua, lo togliamo, ok, scusa, vedi, lo mettiamo un pochino, così, sul dito, senza dischetto, e te lo passo, ok, non mi so troppo, te lo passo, questo è proprio liquido, liquido, vedi com'è tutto granuloso, ti consiglio anche, lo scrub, della Ovia, la Boratotores, non si chiude più, vabbè, lo chiudo dopo, lascia stare, ok, adesso lo passiamo, te lo passo, anziché con le dita, perché scivola, con il dischetto, guarda qua, sì, certo, sempre devi chiudere gli occhi, mi raccomando, eh, te lo passo un po' velocemente, così, sulle guance, tu hai una bella pelle, comunque, pensavo fosse più, disastrata, guarda, io le vedo di tutti i colori, quando vengono, alcuni miei clienti, anche gli uomini, vengono da me, dai miei colleghi, se non ci sono io, più delle volte, e molte persone, hanno la pelle, disastrata, veramente, piena di bolle, piena di rughe, di bustole, piena di acne, di problemi, bisogna curarla, la pelle, bisogna, prendersene cura, ok, un po' col dito, perché ne ho ancora un po' sul dito, di scrub, perfetto, ok, lasciamolo agire, pochi minuti, e poi, si toglie con l'acqua, adesso ti tirerà un pochino, la pelle, ma poco, non dà fastidio, qualche secondo, cerca di sopportare, che mi racconti, conosciamoci un po', che cosa fai nella vita, la commessa, perfetto, a me questo lavoro piace, non si chiude più, questo scrub, è faticoso, ok, si è chiuso, scusa l'umore, ho un po' di tappi, ti piace fare la commessa, sì, ma in che negozio, specifico, specialmente, abbigliamento, fantastico, quindi sei, sai consigliare bene, i tuoi clienti, sei una modaiola, una che segue la moda, perfetto, mi ha dato, io vorrei imparare, mi insegni, magari diventiamo amiche, chissà, sarebbe carino, ok, adesso ti prendo, un pochino d'acqua, guarda qua, c'è una bella ciotola, con l'acqua, una ciotola con l'acqua, e da qui, con quest'acqua, e con qualche dischetto, ti tolgo lo scrub dal viso, chiudi gli occhi, si tirava un pochino la pelle, vero? adesso noi facciamo dei movimenti circolari, circolari, e si toglie tutto, e vedrai che avrai una pelle meravigliosa, e poi se vuoi, magari la prossima volta, curiamo anche bene le tue unghie, che vedo che sono molto belle, mi tieni corte, per il tuo lavoro, certo, ok, adesso ti asciugo il viso, ma con questo caldo, si asciuga in parte la pelle bagnata, ti piace solo nell'acqua, anche questo è un trigger in ASMR, per l'ASMR, a me piace tanto, ok, se vuoi poi la prossima volta, facciamo dei trattamenti solo con l'acqua, così ti rilasso al massimo, ok, Alice, sei perfetta, ti passo ancora un po', il dischetto, per asciugarti bene la pelle, ok, avevi già una pelle bellissima, ma adesso ancora più bella, e mi raccomando, curala sempre con i trattamenti, che ti ho fatto vedere, oggi, ok, bene, vuoi una tisana? certo, ti do una bellissima tazza, quella che bella, azzurla, sapevo che era il tuo colore preferito, con il cuore, e qui, adesso mi devi dire, che tisana vuoi, tappi sulla carta, è anche molto rilassante per qualcuno, ma ti piace? lo facciamo un po', qui ci sono le tisane depurative, con menta, a cardomariano e liquirizia, ti piace? della gelica, oppure, ne abbiamo tante di tisane, qui sparse, diciamo, un po' in giro, c'è, allora, la tisana della gelica, è questa, depurativa, oppure, c'è la camomilla, della twining, buonissima, con il miele, la vaniglia, aromatizzata, oppure, ci sono questi due tè, che sono molto, buoni, vaniglia e lampone, oppure tè, alla vaniglia e pasta, Lord Nelson, che tisana vuoi tesoro? quello che vuoi, faccio quello che vuoi, è aggioccolato, sì, ma mi è finita, camomilla, perfetto, me l'avevi detto al telefono, che era un po' ansiosa, anch'io, ci capiamo, ma come mai, è successo qualcosa, nella tua vita, raccontami, mi piace la psicologia, psicanalizzare, anche gli clienti, un pochino, vedi com'è questa, la bustina, senti il profumo, già appena aperta, la confezione, della tisana, si sente un profumo, fantastico, adesso mettiamo, l'acqua già calda, adesso mettiamo, ecco qui, si scuolisce un pochino, e via, ok, si scuolisce un po', e poi la puoi bere, perfetto, te la metto qui, quando vuoi, senti il buon profumo, fantastico, camomilla, aromatizzata, al miele, e alla vaniglia, dolcissima, mi piace, e non la metto neanche, il miele, di solito, perché è già dolce di suo, certo, ovvio, ok, tesoro, bevi la, a piccoli sorsi, la tisana, mi raccomando, e noi, ci vediamo, presto, quando vuoi tornare, io sono sempre qui, ormai, adesso sai dove sono, quindi puoi venire, quando vuoi, a trovarmi, certo, ti aspetto, tieni la tisana, bevila con calma, tra un'ora, ho altri clienti, sì, sono parecchio stanca, anch'io si vede, dobbiamo riposarci, rilassarci, più spesso, e non pensare, sempre ai problemi, della vita, ti faccio ancora, qualche suono, con l'acqua, prima che te ne vai, intanto tu dimmi, ti piace questo trattamento, tutti i trattamenti, che ti ho fatto, sei rilassata, mi fa tanto piacere, e allora, spero di rivederti presto, quando vuoi, io sono sempre, ad aspettarti, e a goccolarti, prendermi cura di te, te lo meriti, a presto tesoro, grazie di essere venuta, buon pomeriggio, ciao, un bacione, ciao,